Tre giornate dedicate alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Da mercoledì 27 a venerdì 29 giugno, Napoli ospita la manifestazione Obiettivo Sicurezza, promossa dall'Assidal con l'Osservatorio Comunale sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e l'Associazione Imperfect. Sono convinto che dare la possibilità a 360 gradi di dare informazioni sia con convigni che con iniziative ludiche si dà la possibilità di arrivare a tutte le persone. Io sono convinto, come ho sempre detto, che investire in sicurezza è un vantaggio e non è uno svantaggio. Infatti già da un anno si stiamo attivando in questo senso e stiamo avendo delle grosse risposte. Cosa vogliamo dire con questa manifestazione in questi tre giorni? Che la sicurezza si discute a 360 gradi nei luoghi di lavoro, che è principale, ma anche nei luoghi di vita, nelle scuole, nelle strade, dappertutto. Con questa grande manifestazione che avremo un tema particolare, quello dei trasporti, che anche in questi giorni ci sono stati alcuni incidenti del resto mortali, è fondamentale divulgare quello che è la sicurezza a tutti. La cultura della sicurezza ha una circolarità di interessi, tutti se ne devono fare carico, quindi parlarne, conoscerla e poi applicarla. È la seconda edizione dell'iniziativa che si svolgerà il 27 e 28 giugno al Maschio Angioino, con due mattinate di incontri e dibattiti presso l'antisala dei Baroni, e si concluderà venerdì 29 in piazza del Plebiscito. A partire dalle 10 sarà allestito in piazza il villaggio di Pompieropoli, organizzato dai Vigili del Fuoco, e la sera alle 21 è previsto un concerto ad ingresso gratuito, che vedrà tra gli ospiti Giaudio 2, Rosario Miraggio, Claudia Migré e tanti altri artisti. In questo caso canto tante canzoni che trattano l'amore, quindi secondo me ci vuole anche amore nel fare il proprio lavoro e giustamente in questo caso bisogna anche aiutare queste persone che comunque rischiano e aiutare i familiari che vogliono assolutamente che queste persone tornino a casa sani e salvi. La sensibilità degli artisti è qui, è quello di dare una mano sempre a chi, dove ci sono dei problemi, da risolvere. Non spetterebbe a noi, diciamo, dire come si fa la prevenzione sul lavoro, però noi possiamo dare una mano a questi lavoratori, crediamo che nel 2018 sicuramente non si può morire per lavorare, non esiste, si lavora per vivere. E' molto nobile che ci siano iniziative come queste e cantare musica e fare in modo di portare sempre un apporto positivo a situazioni e a eventi importanti come questa.